Si è chiuso a Vaprio d'Adda un ritorno nel passato con la festa Vintage, Get Back to Vintage. Vediamo com'è andata. Un evento unico nel suo genere, promosso dall'associazione culturale Retro Bottega, con il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia di Milano e del comune di Vaprio d'Adda, che ha unito moda, musica e design. Una tre giorni di Vintage, due eventi in uno, Get Back to Vintage, la mostra a mercato con circa 80 tra i migliori accreditati espositori nazionali e Get Back to Music, gli anni 50, 60, 70, 80, rivissuti attraverso speciali performance live e DJ set solo vinile, che hanno trasformato la suggestiva location di Villa Castelbarco in una vera e propria cittadella del vintage lifestyle. Get Back to Vintage ha rappresentato un'opportunità per condividere un ritorno al passato all'insegna dell'originalità, dell'eleganza e di una qualità di cui si sente nostalgia. La contaminazione musicale dell'evento collaterale Get Back to Music ha saputo creare un'atmosfera unica e irripetibile, il vintage come vero e proprio modo di vivere. Su un palcoscenico immaginario sviluppato e articolato tra le stanze e i corridoi della villa, sono stati protagonisti e artisti di fama nazionale e internazionale, del mondo dell'arte, della moda e della musica, che hanno accompagnato i visitatori in un percorso fatto di emozioni da vedere, toccare ed ascoltare. Un viaggio nel tempo compiuto anche attraverso brani mitici eseguiti dal vivo, come Hey Joe di Jimi Hendrix. Un viaggio nel tempo compiuto anche attraverso brani mitici eseguiti dal vivo, come Hey Joe di Jimi Hendrix.